Ciao a tutti ragazzi, sono Trucce Baldazzi, come voi sapete benissimo, ovviamente. La gente ancora non sa di me tante cose, come sono io di persona realmente, come Matteo. La gente sa quello che metto su YouTube e loro giudicano, mi pensano male, io ho questi pregiudizi, questi pensieri negativi che non riesco a levare a me ne vede, io capisco che racconto le solite cose, dico le stesse cose, perché ovviamente io lo voglio dire adesso, cioè io non ho esperienze nuove, le sto facendo, grazie all'operatore sociale, che lui ha detto che sono una metà strada, sono una metà strada da arrivare a un obiettivo per abituarmi ad uscire di casa. Adesso sto vivendo un momento molto ma molto difficile, perché ci sono tanti cambiamenti, così mi dicono i miei, o mi dicono le persone, come l'operatore, e via dicendo. Io adesso ho l'impegno di dimagrire, di calare di peso, soprattutto già questi 13 chili li ho persi, prima ero 161 chili, adesso ne peso 148, quindi voglio dire, io sto arrivando a degli obiettivi per dimagrire, avendo l'impegno, facendo tutti i giorni la secret, e mi sto impegnando, anche se non mi rendo conto, perché ci sono delle cose che vorrei avere subito, e via dicendo. Però ci sto riuscendo. Il problema è che io in questi giorni sono sempre in sottostress, sono stressato, sono nervoso, perché ovviamente è chiaro che io sto lottando in continuazione per avere quello che voglio avere. uno, degli amici, delle compagnie, e soprattutto avere una cosa più importante della mia vita, avere anche una compagna in cui stare assieme. Questo è il punto. Io penso che quando avrò una compagna, a me cambierebbe tutto, sarei più aperto, sarei più disponibile, mi cambierebbe un mondo. Io lo spero, perché anche pure, il fatto di cambiare questo mondo, adesso io vedo tutto nero, cioè non ho, non ho molta autostima di me, perché a volte dico nelle canzoni che sono un coglione uno sfigato, perché lo pensano gli altri, che sia un coglione uno sfigato. Ma con questo io lo so che non è vero, ma gli altri che lo pensano. il fatto che io da un punto di vista mi rendo conto, quando faccio le carico i video da YouTube da arrabbiato, perché quando uno si arrabbia, si perde il lume della ragione. Così mi hanno detto tutte le persone, anche come i miei, mi lo dicono. quando sono arrabbiato, io non riesco a capire più niente. Comincio a fare delle cose che dopo me ne pento, ovviamente, e è chiaro che questo non è quel punto. Perdo lume della ragione. E capisco, la gente quando mi vede in giro, mi dice, c'è tu c'è maldati? Io subito sono arrabbiato, perché, deluso, perché loro, quando parlo della mia zona, ovviamente, Bologna, Mastiniano, Pianoro, perché io, loro, vedono, c'è tu c'è maldati, chissà cosa penseranno di me, per quello che faccio, e ho sempre dei giudizi negativi. Però, il punto qual è? Che io, vorrei fregarmene. Però, la mia situazione è che io sono molto sensibile. Molto. E' chiaro che, io, mai stato in mezzo agli altri, e mi devo, capisco, piano piano mi devo abituare, assieme all'operatore sociale, che, io, con cui, mi farò guidare, ovviamente, da lui, è chiaro che, e io, ancora, sono, per fare, la cosa, cioè, io mi sento ancora, a metà strada, ancora, perché, se doveva parlare di tre, quattro mesi fa, io non uscivo mai, di casa, e sono più di dieci anni, che sono chiusi in casa, non riesco, a vedere nessuno, già non vedo nessuno, fuori dalla mia zona, perché, a volte, sono le mie persone, sono a lavorare, sono da altre parti, e, è chiaro che, io, in queste condizioni, io, mi trovo in una situazione, molto drammatica, chiaro che, io, adesso, faccio fatica, a confrontarmi, come mai, ho sempre paura, degli altri, come mai, non riesco, come dire, a, 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 essere calmo, non agitarmi, non riesco a stare tranquillo, quando sono in mezzo, alla gente, e ho, sempre paura, in continuazione, degli altri, e mi spavento, e vado via, perché ho paura, di confrontarmi, con gli altri, io, ho paura, che gli altri, mi giudicano male, mi pensano male, e, quello, è il mio problema, che, io, non riesco a fregarmene, perché, io, quando, sono in mezzo, io, se dovessi stare in mezzo, alla gente, assieme a un gruppo, di persone, che non conosco, vado, in un posto, affollato, io, ho tanta paura, che gli altri, mi giudicano male, mi pensano male, ma, non capendo il motivo, proprio, e, io, mi sento, questa paura, questa ansia, che, io, di, anche, di essere rifiutato, di non essere capito, non amato, e, questo, è il mio problema, che, io, ho tante paure, non riesco, a affrontare, le mie paure, da solo, quindi, io, ho chiesto, un aiuto, di un operatore, sociale, e, io, capisco, che, cioè, io, dico la verità, io, sono anche buono, sono buono, cioè, non è che io sia, una persona, maleducata, cattiva, e, io, sono una persona buona, sono una persona naturale, una persona, che, odio la droga, odio il crimine, la violenza, e via dicendo, cioè, io, non sono una persona cattiva, la gente, mi crede, una persona, coglione, spiegata, perché, loro, non lo sanno, nella loro testa, quando vedono su YouTube, queste cose, che faccio, perché, loro pensano, che sia io il vero, nella scena, ma sono così, realmente, cioè, io, il problema, è che questo, è uno sfogo, che io uso, con la mia musica, per sfogare, i miei problemi, non certo, per fare il pagliaccio, fare il cretino, come, non so cosa, così, cioè, io, la mia musica, questa è l'ultima spiaggia, della musica, perché, cosa devo andare a fare, il muratore, vado a fare il cuoco, vado a fare, qualsiasi cosa, che a me, non mi piace, e, è chiaro, che la cucina, non fa per me, perché, io ho avuto, tanti problemi, a scuola, non ho imparato, quasi niente, e non lo voglio, ribadire, perché, ho avuto, dei grossi problemi, sono rimasto, indietro, non sono riuscito, a stare al passo, con gli altri, e, e, questo è il mio problema, che io ho avuto, degli insegnanti, troppo incompetenti, che, non hanno capito, i miei problemi, soprattutto, sono andati avanti, ce ne sono fregati, che io avevo, dei problemi, e questo è il mio problema, che io, io devo fare, io, devo affrontare, queste paure, io le voglio affrontare, queste paure, queste ansie, perché, io sono stanco, di vivere, con queste paure, e io voglio, avere una vita sociale, degli amici, soprattutto, la cosa più importante, che, ovviamente, di trovare, una compagna, che in cui stare assieme, e questo, io vorrei tanto, che, mi faccia stare bene, mi faccia, stare tranquillo, avere una vita serena, tranquilla, e io ci conto, perché, io adesso sto dimagrendo, e presto uscirà, un farmaco, un farmaco, siamo a sema grutide, che mi fa dimagrire, a botto, e a settembre, sarò, diciamo, dimagrito, diciamo, quasi, e io, ce la sto mettendo tutta, per carare ancora di più, è ancora, presto, per il momento, di essere 130, o sui 100, e mantenere il peso, ideale, con questo, voglio chiudere, e spero, che avete capito, questa condizione qua, questo messaggio, io vi ho detto, come sto, ovviamente, ci vediamo presto, ciao, ciao,